In collaborazione con Madonna di Campiglio, Val Sugana, Dolomiti Superski. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omoboni al consueto appuntamento settimanale con Sportador.tv, la multipiattaforma tv e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, puntata a questa tutta dedicata a Schirama Summer, l'offerta turistica estiva di otto importanti comprensori sciistici che insieme fanno un'unica entità turistica. Le otto località che insieme fanno Schirama, Dolomita, Damello e Brenta sono, partendo da est verso ovest nel Trentino occidentale, dal Pecimbre al Paganella, il Bondone, Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgarida e Mari, Leva, Peio e Ponte di Legno sino al passo del Tonale. Insieme le otto località d'inverno fanno 300 km di piste usufruibili con un unico skipas. D'estate c'è l'offerta Schirama Summer, ne parliamo con Bruno Felicetti che è il direttore delle funivie di Madonna di Campiglio, l'anima, il fulcro di Schirama, Dolomiti e Adamello Brenta, perché qui siamo al cospetto delle Dolomiti di Brenta e dell'Adamello, voi siete il centro sinergico e nevragico di questo Schirama Summer. Ciao Floriano, bentornato a Madonna di Campiglio, è sempre un piacere averti qui, anche tutti i telespettatori che ci seguono attraverso i vari canali. Siamo finalmente ripartiti, dopo un inverno difficoltoso con false partenze abbiamo potuto riaprire i nostri impianti, abbiamo approfittato del lockdown per fare tutte le manutenzioni straordinarie, e ordinarie per controllare nei minimi dettagli la sicurezza dei nostri impianti. Siamo partiti, tutto bene, bel tempo, aria fresca, spazi immensi, possibilità di immergersi in pieno della natura e di ritrovare un po' di tranquillità dopo mesi in cui abbiamo avuto delle difficoltà. Si pronuncia un'estate autarchica con tanti turisti, soprattutto italiani, che già amano la montagna d'inverno e che sanno le potenzialità di Schirama, Dolomiti e Adamello Brenta, questo consorzio di otto qualità nel periodo invernale, ma Schirama Summer è l'offerta estiva con Campiglio al centro di questo progetto. Sì, abbiamo intensificato le attività insieme alla nostra APT, sia nella parte outdoor, sia nella parte divertimento per i bambini, le famiglie, molti eventi che ritornano finalmente anche quest'estate, dai suoni dell'Odomiti alla Top Dolomites, tantissimi eventi che potete trovare sul nostro sito www.ski.it oppure sul sito della nostra APT campigliodolomiti.it. Impianti anche aperti d'estate in ottica invernale, inaugurata la nuova Fortini in periodo di lockdown, quindi si pronuncia un grande inverno dal punto di vista sciistico. Ma noi non ci siamo fermati con gli investimenti, riteniamo che il futuro tornerà a una quasi normalità, ci stiamo organizzando per questo, stiamo tenendo conto delle regole che avevamo a febbraio per riaprire, quindi con l'attenzione ai numeri, con l'attenzione alla gestione delle code, la possibilità di prenotare online i biglietti, quindi già dall'estate sarà possibile prenotare online i nostri biglietti invernali con una nuova formula, prima acquisti, meno spendi, un po' come con le linee aeree, quindi un incentivo a chi si organizza in anticipo, un vantaggio economico, una sicurezza di trovare il posto in pista e anche un'assicurazione che garantisce in caso di annullamento per motivi documentabili. E soprattutto gli impianti che ormai sono, oltre che andare in alta quota a respirare alla buona, sono anche un mezzo di collegamento, qui è famoso il collegamento Pinzolo-Madonna di Campiglio, ma ora c'è l'idea di andare fino a Folgari del Marileva in Val di Sole per unire la Varrendena e la Val di Sole con Campiglio e Passo Carlo Magno, Sant'Antonio di Mavignola al centro di questo progetto. Sì, stiamo lavorando con molta attenzione per limitare l'uso della propria macchina all'interno di un contesto naturale così bello e quindi gli impianti sono, come dire, un mezzo ecosostenibile che permette di risparmiare quella mezz'ora, quell'ora di camminata iniziale che non è mai bella e di godersi da subito lo spettacolo delle Dolomiti. Partita bene la stagione, si preannuncia una stagione lunga, fino a settembre-ottobre inoltrato per poi ripartire, speriamo, subito a metà-fine novembre con l'inverno. Ma sì, noi speriamo ovviamente nelle condizioni meteo, il meteo in montagna è sempre decisivo, intanto siamo partiti bene, quindi luglio con buone prospettive su agosto, settembre abbiamo aperto l'impianto fino al 19 di settembre, poi speriamo se il tempo ci assiste, se le condizioni sono ottimali, potremo magari allungare ulteriormente la stagione. Il tempo oggi ci ha assistito, guardate che giornata meravigliosa, l'Adamello, il Brenta, quindi si preannuncia una bella puntata per scoprire le bellezze di Campiglio. Sì, nel resto d'Italia si parla di 40 gradi all'ombra, qui siamo a 18-20 gradi, qui una temperatura ideale, quindi invito tutti a venirci a trovare. Grazie all'amico Bruno Felicetti per la presentazione di questo speciale Schirama Summer dedicato a Madonna di Campiglio, seguiamo i suoi consigli e continuiamo a scoprire le bellezze di questo territorio. Interessanti le parole di Bruno Felicetti delle funevie di Campiglio, ora incontriamo Tullio Serafini che è il presidente della nuova azienda autonoma Madonna di Campiglio. Con la riforma del turismo della provincia autonoma di Trento, questo territorio racchiude ora importanti risorse, parte da Lago d'Idro, Stor, Risale alla Valle del Chiesa, Varendella, Pinzolo, Tione, fino a Madonna di Campiglio, sino al passo campo Carlo Magno. Una realtà importante, ne parliamo col presidente Tullio Serafini, insomma una stagione che è partita bene, una stagione che vede grandi riforme come questa del turismo su una realtà importante che è Madonna di Campiglio, le sue montagne, la sua storia e la sua cultura. Buongiorno Floriano, buongiorno a tutti, benvenuti a Madonna di Campiglio. Oggi siete qui a Malga Zelede, un posto meraviglioso, abbiamo sullo sfondo le Dolomiti di Brenta. Sì, noi siamo pronti, questa nuova legge sul turismo che è stata approvata lo scorso anno, in agosto del 2020, ha ridisegnato quelle che sono i confini geografici delle nuove aziende per il turismo. Abbiamo completato tutto quello che è il processo, diciamo, burocratico-amministrativo e adesso stiamo attivando tutte le nostre iniziative, le nostre esperienze nuove, i nostri prodotti che vogliamo offrire ai tanti ospiti, io dico tanti perché i segnali per questa stagione sono positivi e quindi ci attendiamo un'estate importante. Estate importante, estate calda, sia dal punto di vista meteorologico, i 40 gradi in città fanno scappare la gente appunto e fanno venire in montagna, estate calda perché avete una grande riforma che vi mette al centro del turismo italiano e soprattutto le montagne che sono uniche, l'offerta Outdoor, che è un nome che porta bene, noi siamo sport.outdoor.tv, Outdoor Campiglio, sicuramente un bel binomio, un bel tragitto da viaggiare insieme. Sì, assolutamente, noi abbiamo, diciamo, della diversità di offerta quella che è la nostra forza. Ma anche questa, permettimi di citare questa cosa, insomma, l'unicità che ci caratterizza è questa diversità proprio geologica dei nostri due gruppi montuosi che abbiamo molto vicini, no? Da un lato le Dolomiti di Brenta, quindi rocce calcarea e stratificate e dall'altro lato, a pochissima distanza, c'è il gruppo della Damelo, della Presanella, del Carialto, che invece è una roccia di origine vulcanica, tonalite, molto dura, dove sono presenti tanti laghi, tanta acqua, tanti torrenti, cascate. Quindi questa diversità ci caratterizza a livello mondiale. E su questo tema della diversità abbiamo costruito anche il nostro piano, il nostro prodotto, il nostro così, la nostra direzione da seguire e quindi offriamo tanta diversità di prodotti, di iniziative che poi, se vuoi, ti approfondiamo. Non lo voglio sapere solo io, lo vogliono sapere i nostri amici telespettatori. Abbiamo detto che sarà un'estate autartica, sarà un'estate piena di turismo, soprattutto in montagna. Dici, non tutte, perché sono tantissime, abbiamo visto la brochure, veramente sul sito Campiglio Donomiti potete vedere di tutto, ma dici in esclusivo, in anticipo, qualche particolarità che avete studiato per questa estate. Sì, noi lanceremo, in realtà lo abbiamo già lanciato, due prodotti, diversi anche questi. Uno è di nicchia, abbastanza di nicchia, riservato all'alpinista, si chiama La Via delle Normali, in collaborazione con il Collegio Trentino delle Guide Alpine, sostanzialmente a ripercorrere quelle che sono le dieci risalite sulle dieci cime del Brenta, tracciate ancora dai pionieri dell'alpinismo mondiale. È un progetto molto importante che va appunto a sviluppare comunque una zona molto molto conosciuta. L'altro si chiama Doga, Dolomiti Garda, che mette in collegamento il nostro territorio, partendo da Campo Carlomagno, in realtà anche più giù verso la Val del Meledrio, fino a Riva del Garda, con l'APT dell'Alto Garda, con il quale abbiamo un'ottima collaborazione. Anche questo è un percorso cicloturistico, adatto a tutti, si può fare a tappe, e attraversa degli scorci veramente meravigliosi, dove viene messa in evidenza anche un'altra di quella che è la tipicità, io dico trentina, ma italiana, che è anche la cucina, la valorizzazione dei prodotti tipici. Quindi facendo sport, facendo una bella pedalata, ci si può fermare in alcuni posti molto belli e mangiare anche molto bene. L'effetto anno gastronomica non manca in questo bellissimo territorio. Grazie a Tullio, seguiamo i suoi consigli. Doga, Dolomiti Garda e poi le scalate del Brenta. Grazie a Tullio, seguiamo i suoi consigli. Lasciamo Madonna di Campiglio e passo Campo Carlo Magna e scendiamo in valle. E siamo a Pinzolo e abbiamo preso la cabinovia, siamo a Prarodont. Poi si può salire con l'assessio via, sino ai 2000 metri di Dos El Sabion, con un panorama unico, veramente bellissimo nelle Alpi. Qui incontriamo l'amico Roberto Serafini, della schiara di Pinzolo. Quindi una grande estate, impianti già aperti. Dopo un anno difficile di lockdown, tutto è pronto per una grande stagione e poi con l'ottica stagione 2022. Sì, ciao Floriano, è un piacere rivederti qua da noi. È così, c'era tanta voglia di ripartire, di riaprire, dopo tutto quello che abbiamo passato. Quindi l'estate è partita bene, abbiamo fatto dei lavori per manutentare i nostri percorsi bike, i nostri percorsi a sentieri e già la gente che è venuta è soddisfatta di quello che ha trovato. E ci aspettiamo una buona estate perché credo che ci sia tanta voglia di libertà e di movimento e anche di praticare un po' di sport in montagna, al fresco e anche molto distanziati nei boschi. Come dicevi prima, siete qua a Prarodont, che è un posto dove spesso viene frequentato dalle famiglie perché ha ampi spazi, prati, poi ci sono anche le mucche che chiamano sempre i bambini a giocarci, a vederle. Più a monte invece abbiamo il Dos del Sabion, che è sicuramente uno dei posti più panoramici dell'arco alpino. in cui si possono vedere le Dolomiti di Brenta e dall'altra parte il Carialto, la Presanella, domina proprio dal centro della valle tutto il nostro meraviglioso paesaggio. La vostra valle è proprio divisa, lo possiamo dire, fra due tipologie di montagne diverse, le Dolomiti di Brenta e il parco della Dammelo con la Presanella, col Carialto e tutto. Siete al centro di questo fenomeno geologico che è veramente molto attuale e che state condividendo con i tanti turisti che vengono qui in Varendena, a Pinzolo e a Madonna di Campini. Sì, la fortuna della montagna del Dos del Sabione che nasce proprio dall'incontro di due realtà diverse geologiche che sono la Dolomia delle Dolomiti e la Tonalite della parte della Dammelo della Presanella. Questo incontro ha creato questa montagna nel centro della valle che è anche quindi un po' particolare ma è proprio il presupposto su cui hai questa terrazza a 360 gradi che ti permette di godere delle bellezze appunto dei nostri territori e il parco Dammelo Brenta e soprattutto che è anche Geopark sta un po' a rappresentare anche questa particolarità del nostro territorio quindi abbiamo la fortuna di essere davvero in un contesto molto prezioso da un punto di vista ambientale e all'interno del parco Dammelo Brenta che è anche la qualifica di Geopark. Montagne alte con tanta neve oltre i 3.000 metri ricche di acqua che d'estate diciamo portano acqua al lago di Garda, al lago d'Idro e anche voi a Dorsi del Sabion c'è un nuovo lago proprio in una funzione acquatica d'estate perché ama appunto ritemprarsi ma anche in ottica invernale come bacino di riserva per l'innevamento artificiale. Sì, allora in generale è toccato un tema molto sostisibile che è l'acqua e la neve in quota perché in questi anni con i cambi climatici insomma le scarse precipitazioni preoccupano un po' tutti. Quest'anno fortunatamente in quota ci sono state precipitazioni molto abbondanti e questo salvaguarderà un po' di più le nostre nevai e ghiacciai. Noi come Funivie di Pinzolo avevamo fatto un investimento importante realizzando questo nuovo lago nella conca di Grual che aveva la principale funzione che è quella di darci maggior possibilità di nevamento per l'inverno già da inizio stagione e con questo abbiamo raggiunto un obiettivo che era prioritario dando la garanzia di apertura già da Sant'Ambrogio. Però abbiamo anche tenuto conto dell'ambiente in cui operiamo dato grande valenza all'inserimento paesaggistico e abbiamo voluto crearlo proprio perché ci sia un ottimo inserimento con il paesaggio circostante e questo permette ad estate di vederlo come un'attrazione una cosa che il turista trova come una cosa positiva nell'arco delle sue camminate o nelle sue gite in bike e quest'anno dopo i lavori dell'anno scorso anche i ripristini della rimessa verde dovrebbero essere completi e pensiamo insomma che possa essere una cosa anche apprezzata ad estate quindi pur essendo in quota perché a 1900 metri potrebbe essere davvero una delle novità che i nostri turisti potrebbero apprezzare. Tanto svago, divertimento, tanta natura, tanta storia, tanta cultura quali sono le proposte nel dettaglio? Se abbiamo stimolato la curiosità dei nostri amici telespettatori hai parlato di bike park, hai parlato degli impianti siete stati aperti tutto l'inverno per gli sci club e per le gare di sci e questo vi fa onore quali sono le peculiarità in poche parole di questa istante? Sì, noi come hai detto giustamente siamo riusciti ad andare quest'inverno con gli sci club siamo molto soddisfatti di questa cosa perché i giovani hanno potuto avere in un inverno così difficile almeno qualche ora di svago e di divertimento all'aria aperta e è stato molto importante e per noi ha voluto comunque dire mantenere almeno un po' del nostro lavoro e della nostra operatività per quello che riguarda l'estate noi abbiamo puntato molto sul settore bici abbiamo dei percorsi di downhill che come ho detto prima abbiamo appena fatto delle manutenzioni abbastanza importanti per farli trovare al top abbiamo anche risistemato le strade bianche in modo che anche quelli che sono diciamo più le famiglie, i bambini, quelli che possono andare anche su terreni più facili possono trovare dei percorsi adatti a loro e poi ci sono tutte le paeseggiate che sono quelle invece tradizionali che vengono nel bosco e che possono però andare anche verso i dolomiti di Brenta che sono un po' il nostro fiore all'occhiello perché davvero una persona può avere vari tragitti e quindi passare delle belle giornate rilassandosi e ritornando all'aria aperta quindi molto sport, molto diciamo anche benessere, tranquillità, riposo in un contesto davvero prezioso Voi fate parte anche di Schirama Summer? Sì certo, con le altre società è un progetto che abbiamo sposato e che ci abbiamo creduto fin dall'inizio rilanciando il prodotto estivo perché magari per alcuni anni eravamo stati prevalentemente su quello invernale siamo convintamente anche sull'estate consapevoli che è un settore su cui possiamo ancora crescere e facendolo assieme abbiamo creato degli skip pass che permettono anzi delle bike pass che permettono di girare su tutti gli impianti dello Schirama Bike pass per l'estate ma tutto si ragiona in ottica invernale qui avete 150 km di piste come Schiara Campiglio Donomiti 300 pass a chilometri come Schirama Donomiti Adamello Brenta l'offerta scistica all'avanguardia nelle Alpi Sì certo, noi soprattutto grazie alla realizzazione del collegamento siamo entrati a far parte della Schiara Siaipiedi e quello è stato un passaggio enorme che ci ha permesso appunto di offrire quel demanio che dicevi te di 150 km di piste e per l'inverno sì, grandi aspettative perché dopo un inverno di chiusura abbiamo lavorato molto e devo dire che abbiamo importanti novità soprattutto sul sistema di vendita che è stato digitalizzato e vogliamo semplificare molto per l'ospite la possibilità di acquistare biglietti Meno cosa alle casse più un percorso telematico Sì, diciamo che era una cosa che secondo me andava affrontata anche prima visto gli affollamenti che avevamo alle casse però il Covid ci ha dato l'opportunità di accelerare su questo percorso che secondo me è virtuoso e quindi convintamente le società dello Schirama in generale ma io facendo parte della Schiara in modo particolare abbiamo intrapreso una strada di digitalizzazione in modo che la gente possa arrivare alle funivie già in possesso del suo Schipas e direttamente andare a sciare senza dover parte delle code e delle casse che erano ormai anacronistiche quindi abbiamo lavorato molto durante questo inverno su cui non siamo stati aperti su questi sistemi e adesso non vediamo l'ora di testarli sull'inverno convinti che incontreranno il gradimento degli ospiti perché ormai il concetto di pay per uso piuttosto che di acquisto online sono entrati nelle dinamiche normali e sono convinto che saranno apprezzati soprattutto perché faranno perdere meno tempo agli ospiti Siamo scesi dai 2000 metri di Dos e il Sabion siamo tornati a Pinzolo siamo nella zona Pineta la zona sportiva di Pinzolo Pinzolo rinomato centro di ritiro delle squadre di calcio tutte le migliori squadre sono venute a passare il loro ritiro estivo qui dalla Roma, Inter, Juventus e ora il Bologna qui in questo centro Pineta c'è il nuovo Biolago una nuova struttura creata dall'amministrazione comunale di Pinzolo che sfrutta le acque ricche qui della Damello, della Presanella di tutte queste bellissime montagne, neve e ghiacciaio perenne d'estate diventano acqua qui incontriamo Mirka Bianchini che è la responsabile di questo Biolago della società che gestisce, la cooperativa che gestisce questa struttura un grande successo Mirka qual è lo scopo di questa struttura, il famoso Biolago e come si procede, come si può utilizzare questa importante struttura per le vacanze estive qui a Pinzolo Benvenuti al Biolago a Pinzolo che cos'è un Biolago? Il Biolago è un lago naturale attraverso la quale avviene una autodepurazione con aree specifiche che possono essere le piante come potete ammirare poi ci sono delle bellissime ninfee e anche dei materiali argillosi che aiutano questo al filtraggio dell'acqua anche attraverso delle pompe in questi giorni la temperatura del lago al mattino è di 20 gradi e può raggiungere anche i 25-26 gradi giornalmente qui in parte abbiamo il lago, il laghetto dei bambini l'altezza è di 40 centimetri e la temperatura del lago può raggiungere i 30 gradi giornalieri la profondità del nostro lago è di 3,20 metri nella parte centrale offriamo inoltre un noleggio lettino all'ingresso verrà consegnato anche un bracciale alla quale permette al nostro cliente di entrare e uscire per il resto della giornata all'interno del nostro laghetto potete consumare anche del cibo l'importante è non portare del vetro siamo aperti tutti i giorni dalle 10 alle 18 fino a metà settembre perciò vi aspettiamo numerosissimi questa struttura è anche una risorsa importante di economia di lavoro, offre una grande potenzialità ai turisti oltre 700 persone sono ammesse ogni giorno qui a questo biolago incontriamo il bagnino un maestro di sci d'inverno moreno maras d'estate bagnino insomma in montagna si vive tutto l'anno d'inverno la neve, d'estate le offerte acquatiche è anche una risorsa per voi fare il bagnino il mare in montagna esatto, non manca nulla mancava questo fiore all'occhiello che è un'acqua perfettamente pulita diciamo che sono 24 gradi al momento poi abbiamo il laghetto per i bimbi più piccoli il 28 gradi un sole tutto il giorno e niente acqua pura perché arriva direttamente dagli acciai del Presena, Presanella, della Damello dalle Dolomiti di Brenta quindi acqua pura, incontaminata non c'è rischio di inquinamento assolutamente questo viene dall'acquedotto dalle nostre sorgive qui intorno e è un'acqua prelibata pulita al 100% Ponte di legno tonale Val di Fiemme Ponte di legno Madonna di Campiglio Madonna di Campiglio Ponte di legno Ponte di legno Gli impianti sono aperti anche nel periodo estivo L'appuntamento con la neve torna fino a novembre primi di dicembre L'appuntamento invece con Sportador TV ritorna settimana prossima Maggiori informazioni sul nostro sito sportador.tv la multipiattaforma tutta dedicata allo sport e al turismo grazie all'azienda per il turismo di Madonna di Campiglio Sabrina Frizzi Bruno Felicetti Roberto Serafini e della schiara di questo bellissimo territorio noi ci vediamo settimana prossima Ciao e arrivederci da Floriano Momboni In collaborazione con Ponte di legno Tonale Val di Fiemme Peio Dolomiti Superski